Vi domanderete perché schianto? Beh, perché la vita è uno schianto. La vita non chiede permesso, arriva e ti travolge di vita. E a volte lo schianto è dolce come una carezza capace di schiantarti e trasportarti in aria e farti volare. E a volte è dura come un pugno capace di schiantarti per terra. Perché lo schianto non è mai come uno se lo aspetta. No, signori, perché esistono schianti di tutti i tipi. Schianti verdi, rossi, gialli, blu, arancioni, rosa, fucsia, neri. Schianti glitterosi, schianti fluorescentosi, schianti opachi, schianti luccicosi, schianti ubriachi, schianti sobri, schianti glabri, schianti pelosi, schianti stonati, schianti melodiosi, schianti pippiri pippi e schianti buburi bubbi. Arcobaleni di schianti.